Abbiamo fatto la nostra bella figura contro una squadra davvero che è attrezzata bene, due o tre categorie superiori, comunque sono più avanti rispetto a noi con la preparazione come normale che sia. No, abbiamo fatto la nostra bella figura, giustamente dobbiamo ancora mettere benzina che il prof ci farà mettere in queste settimane, però come inizio non c'è male. Ecco, proprio dal punto di vista fisico, dove vi sentite ancora carenti? Passanti minuti, poi specialmente contro queste squadre dove loro fanno possesso palla e noi ci dobbiamo difendere, i primi 25 minuti reggiamo, poi giustamente piano piano iniziamo a calare ma è nella normalità. La prova di Donato Capozzoli come ti autovaluti? Penso buono, anche perché all'inizio non ho ancora benzina nelle gambe, però conosco quasi tutti i ragazzi, già c'è feeling perché con la maggior parte di loro ho giocato insieme, piano piano poi ci adatteremo di nuovo.